telespettatori di video 33 un cordiale saluto dalla redazione dalla regia come avete sentito dai titoli premio il telegiornale con il pauroso incendio che nella notte ha distrutto un maso nel comune di san genesio vediamo il servizio ancora un fienile in fiamme in alto adige a colonia nel comune di san genesio poco sopra bolzano le fiamme hanno distrutto il maso turca a mille metri di quota non vi sono stati feriti fortunatamente salvi anche gli animali che erano nella stalla si indaga sulle cause del pauroso rogo per spegnere all'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di tutto il circondario